Eccoci su Sicilia 24, nuova edizione di Spazio Notizia. Parliamo di cronaca, guardiania abusiva di terreni e proprietà agricole nella Catanese, indagate 5 persone, tutti i dettagli nel nostro servizio. Su delega della procura distrettuale della Repubblica di Catania, i carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti di 5 soggetti, 3 residenti nel citato comune e 2 in quello di Paternò, poiché gravemente indiziati a vario titolo di esercitare abusivamente l'attività di guardiania di terreni e di immobili ricadenti nella stessa giurisdizione. L'attività trae origine dall'individuazione, durante lo svolgimento di servizi di perlustrazione da parte dei militari, di segni di vernice spray di colore rosso, verde e blu apposti davanti ai cancelli di alcune proprietà. Dalle dichiarazioni rese da oltre 50 proprietari è stato possibile accertare che tali colori costituivano dei segni distintivi collegati alla vigilanza privata non autorizzata, pagata attraverso una retta annua di circa 50 euro per ogni ettaro di terreno, quale compenso per la guardiania ricevuta e che i diversi colori utilizzati identificavano un diverso soggetto che si occupava della guardiania. Numerosi proprietari terrieri hanno inoltre riferito di aver subito nel corso del tempo diversi danneggiamenti alle proprietà. Il grave quadro indiziario così emerso, supportato da concreti elementi di riscontro acquisiti all'esito delle attività investigative, ha permesso inoltre di riscontrare che due degli indagati percepivano indebitamente negli anni 2020 e 2021 il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di oltre 15 mila euro, mentre un terzo, titolare di pensione di invalidità contributiva per ridotta capacità lavorativa, ha percepito 32 mila euro circa dal 2018 al 2021. L'Inps, che ha confermato l'importo, ha revocato i benefici indebitamente percepiti avviando altre sile necessarie, procedure di restituzione di quanto illecitamente percepito. E sempre a Catania, i carabinieri della Compagnia di Fontana Rossa, coadiuvati dalla Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno effettuato un servizio finalizzato al controllo del territorio. In tale ambito i militari hanno denunciato un 83enne del posto e un 29enne catanese perché gravemente indiziati rispettivamente del reato di detenzione illegale e alterazione e omessa custodia di armi e di detenzione illegale di armi e di sostanza stupefacente per uso personale, quanto rinvenuto dai carabinieri è stato posto sotto sequestro. E adesso invece ci spostiamo virtualmente ad Agrigento dove la Guardia di Finanza, nei pressi dell'ospedale San Giovanni di Dio, ha fermato un'ambulanza che aveva anche un paziente a bordo per effettuare un controllo di routine. Ebbene i finanzieri hanno scoperto che il mezzo era sprovvisto di assicurazione e così scattata una sanzione di 800 euro per la scopertura assicurativa e altre verifiche sono in corso per accertare l'effettuata revisione. L'ambulanza ovviamente è stata posta sotto sequestro. Torniamo adesso a Catania dove la Guardia di Finanza ha sequestrato 4.000 tonnellate di rifiuti non conformi. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Circa 4.000 tonnellate di rifiuti non conformi e illecitamente trattati sono stati sequestrati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania. Il provvedimento, basato su indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria, riguarda un centro di selezione smaltimento e un centro comprensoriale vicini alla zona industriale del capoluogo etneo per il recupero della raccolta differenziata della provincia. L'operazione, secondo la tesi della Procura, ha fatto luce su un presunto traffico illecito di rifiuti, in particolare nella filiera di trattamento e lavorazione di vetro, plastiche e carta che sarebbero non conformi perché non correttamente trattati e illecitamente stoccati. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania hanno acquisito documentazione amministrativo contabile nell'impianto e nelle società a partecipazione pubblica della città metropolitana di Catania ed Enna. Il titolare del centro comprensoriale è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. E sempre a Catania alcuni vandali sono entrati in azione sfregiando un monumento importante come il Castello Ursino, lo vedete dalle immagini. La Comune ha sporto una denuncia formale contro ignoti che hanno imbrattato di vernice gialla uno dei torrioni del Castello Ursino. La Direzione Comunale Cultura, d'intesa con la soprintendenza ai beni culturali, effettuerà con carattere di urgenza i lavori di restauro con personale specializzato, in quanto la semplice rimozione della vernice rischierebbe di danneggiare ulteriormente l'esterno del maniero. La zona di Castello Ursino è video sorvegliata dalle telecamere di sicurezza e dunque ci auguriamo che le forze dell'ordine possano risalire agli autori o all'autore di questo ignobile gesto, di questo ennesimo atto di vandalismo avvenuto a Catania, in questo caso per un monumento prezioso, importante come il Castello Ursino. Da Catania ci spostiamo a Messina dove invece un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Vediamo il servizio. Nei giorni scorsi, nel corso di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dal questore di Messina, la squadra mobile ha tratto in arresto un sessantenne messinese già aggravato da pregiudizi di polizia. L'uomo è stato notato dai poliziotti in una strada cittadina in zona centro alla guida di una utilitaria. Al conseguente controllo si è mostrato particolarmente nervoso e non ha saputo fornire indicazioni precise su dove si stesse recando. Ne è conseguita la perquisizione sul veicolo dove è stata rinvenuta una borsa con all'interno due buste in plastica trasparenti contenenti circa un chilo di marijuana. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari per rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente. Ed ora parliamo dell'Etna perché si alza il livello di allerta, attenzione e monitoraggio vista la nuova e lunga fase eruttiva. Una nuova bocca effusiva infatti si è aperta sul versante settentrionale del cratere di sud-est a una quota di circa 3.250 metri. Emette una piccola colata lavica in direzione nord-est. Prosegue anche l'effusione lavica dalla bocca che si è aperta il 12 maggio scorso, i cui fronti lavici si attestano nella desertica valle del Leone. Il cratere di sud-est continua a essere interessato da un'attività esplosiva stromboliana di intensità variabile che è stata accompagnata da una emissione discontinua di cenere diluita che si è dispersa in direzione sud-ovest e quanto emerge dai rilievi compiuti dagli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Etneo di Catania. Dicevamo del livello di attenzione allerta che si è alzato perché nella giornata di ieri infatti il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto proprio per il vulcano Etna il passaggio di livello di allerta verde che corrisponde all'attività ordinaria al livello giallo e la conseguente attivazione della fase operativa di attenzione. Grande spettacolo come sempre da parte dell'Etna. La situazione ovviamente è ancora sotto controllo ma si è alzato come detto il livello di monitoraggio e allerta visto che questa fase eruttiva particolarmente intensa dura ormai da diversi giorni e dunque gli esperti stanno seguendo attentamente la situazione attuale dell'Etna. Ora parliamo della Covid, i numeri dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, quindi i numeri che si riferiscono alla giornata di ieri, 2.117 nuovi casi di Covid registrati a fronte di 15.027 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività è salito ancora, adesso è al 14,1%. La Sicilia si è confermata al sesto posto per contagi con gli attuali positivi che sono 88.293 mentre i guariti sono 4.418. Purtroppo si registrano ancora altre vittime, 4 per l'esattezza che portano il totale dei decessi in Sicilia dall'inizio della pandemia a 10.837. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 632, 14 in meno rispetto al giorno precedente, questo è un dato ormai stabile, un decremento continuo dei ricoveri in corsia ma anche in terapia intensiva dove al momento ci sono 30 persone, il numero è uguale al giorno precedente quindi non c'è stato in questo caso un decremento ma nemmeno un aumento. Per quanto riguarda infine le province, Palermo si registra quella con il maggior numero di nuovi casi, 512, poi Catania 497, Siracusa 337, Trapani 230, Agrigento 215 e Messina con 200 nuovi casi. Lo ribadiamo, questi numeri si riferiscono alla giornata del 20 maggio, è il bollettino di ieri, l'ultimo diramato dal Ministero della Salute, quando uscirà il nuovo bollettino chiaramente lo daremo quindi nel corso delle varie edizioni di Spazio Notizia ovviamente in serata come sempre. Adesso parliamo del caso Covizian Almaviva perché se ne sta occupando in prima persona il presidente Nello Musumeci che ha ricevuto a Palazzo d'Orleans una rappresentanza dei 534 lavoratori che ormai da giorni stanno protestando. Il governatore ha inviato una lettera ai ministri del lavoro Andrea Orlando e dell'economia Daniele Franco per attenzionare appunto questa situazione. è necessario, scrive Musumeci, individuare subito un chiaro percorso che scongiuri la perdita del lavoro. La convocazione del tavolo non è più rinviabile e il governo centrale non può rimanere inerte di fronte a una paventata tragedia sociale che metterebbe sull'astrico centinaia di persone in una regione già fortemente provata sul piano occupazionale e che costituirebbe un pericoloso precedente per le migliaia di siciliani impegnati nel comparto dei call center. Torno a rappresentare la massima urgenza, ha scritto ancora il governatore auspicando l'intervento coeso e decisivo delle istituzioni governative a diverso titolo interessate senza il quale non potrà impedirsi la degenerazione e l'estensione di una crisi occupazionale inaccettabile per i lavoratori del nostro territorio. Quindi la Presidente Musumeci, come detto, sta attenzionando questa questione così delicata e importante che riguarda i lavoratori Covisian Almaviva e quindi vedremo come si evolverà questa situazione. Si è acceso intanto lo scontro politico in vista delle elezioni a Palermo tra Miceli e Lagalla, due candidati tutto a causa, si fa per dire, di questi manifesti usciti ieri a Palermo nel centro storico, vedete si parla di mafia, i loghi sono quelli di Forza Italia e Democrazia cristiana, Democrazia cristiana che diventa democrazia collusa nel manifesto, Forza Italia invece che si trasforma in Forza mafia sta indagando la Digos sulla questione, ma il punto è un altro, il punto è che Miceli dopo aver letto questi manifesti sui social ha subito attaccato la galla dicendo ci abbiamo messo 30 anni di impegno e battaglie per scrollarci di dosso l'etichetta di capitale della mafia, Lagalla in un mese è riuscito a vanificare tutto ribaltando personaggi come Cuffaro e Dell'Utri, vergogna il tutto ovviamente postando anche la foto di questi manifesti. Puntuale la replica dell'ex rettore Roberto Lagalla che ha parlato di ennesima caduta di stile da parte di chi privo di contenuti e idee tenta di delegittimare l'avversario politico pur di ottenere un briciolo di visibilità che ha fisso quei manifesti offensivi e denigratori, ha scritto Lagalla, è un mascalzone, un provocatore, un portatore sano di ignoranza, vergogna. Anche lui ha chiuso il suo post con il termine vergogna e quindi come detto lo scontro politico in questo caso è sempre più acceso in vista delle elezioni a sindaco di Palermo. Ci fermiamo qui, non ci sono altri aggiornamenti, ma ci rivediamo più tardi sempre su Sicilia 24. A dopo.